Siamo all'alberghiero Santa Marta di Pesaro, nella sala del ristorante dell'istituto che ospita tantissimi incontri conviviali e domani, mercoledì 14 dicembre, ne ospiterà uno molto particolare, un pranzo totalmente in linea a quello che è lo spirito natalizio. Da allunni e docenti è nata questa voglia di aprirci alla comunità e di fare un gesto concreto, simbolico. E' appunto questo di preparare un pranzo, cucinare e servire un pranzo, appunto il pranzo di domani, che sarà aperto a 55 invitati, in particolare a chi si rivolge a Casa Tabanelli, gestita dalla Caritas di Cisana di Pesaro, e a Casa Mariolino, gestita appunto da volontari della Città della Gioia. Questa iniziativa si intitola Progetto iCare, iCook, e diciamo è parte di un progetto molto più ampio, un progetto che è appunto iCare, che serve per sensibilizzare i nostri studenti a problematiche attuali, problematiche sociali, come diciamo chi vive disagi di natura socio-economica alle persone che subiscono violenza, ad esempio quindi tutta questa ampia gamma. Santa Marta era questa persona che accoglieva Gesù a Betania, perciò voglio sottolineare il fatto che Santa Marta accoglierà queste persone più bisognose, ma ogni giorno noi accogliamo anche tutti gli alunni, quelli più bisognosi anche, quelli che magari spesso volentieri sono gli ultimi. Siamo contenti di questa iniziativa anche perché abbiamo avviato una raccolta fondi sfruttandone delle piattaforme online di crowdfunding, quindi gli studenti hanno avuto anche modo di capire come funzionano oggi certe modalità per reperire finanziamenti, per poter anche in futuro avviare un'attività in proprio. Siamo molto soddisfatti della risposta della comunità perché ci siamo posti un obiettivo di 600 euro per reperire le materie prime e tutto ciò che è necessario per il pranzo e ovviamente con l'eccesso anche poi fare una donazione diretta a queste associazioni. E abbiamo raggiunto questo obiettivo, quindi ringrazio nuovamente la comunità. Dunque il nostro motto è stato quello di si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti si sta solo preparando da mangiare.